ragazzi non potete credere stavo controllando quanti iscritti avevo visto e guardate qualcuno ha guardato il mio video ora lo guardiamo davidox si è un po rincoglionito con joda perché ci chiamiamo davide e oggi parliamo di lui è già scrive male tranne tranne davide tranne questo cazzo allora prima cosa lei sta insultando un nome è come io mi chiamo così porca troia di dio c'è non si può c'è se poi trovi dei commenti uno che si chiama davide si basta non ce la faccio più ciao ciao ciao